Ciao amici, sono Jill, sono tornata con una novità di FoodSpring provata per voi, si chiama Back Protein, vuol dire bake o cucinare o fare dei dolci, baking in inglese vuol dire di solito chi fa la torte, ho insegnato a mia nonna a fare baking, ok? Baking sono i biscotti, i muffin, i pancake, tutto quello che è un po' più elaborato nella cucina. Back Protein è un concentrato delle proteine del latte, stiamo parlando di 100 grammi di questo prodotto che ha 342 calorie, ma la cosa interessante è 77 grammi di proteine ed è anche la crema di tartaro che è un levitante, di solito la crema di tartaro è quella che si trova nel levitante per i dolci ed è incluso in questo prodotto, lo possiamo sostituire le nostre ricette classici, per i muffin, per il ciambellone, per le torte, con 30% 50% di questo concentrato di proteine per arricchire il prodotto di proteine e impoverire magari dei zuccheri semplici. Vi ho fatto una sorta di biscotto torta, si può dire biscotto torta? Perché ho fatto apple pie cookies che vuol dire dei biscotti della torta di mele, con un cuore di mele, di solito voi lo chiamate cuore di mele. Un'altra cosa che ho aggiunto è la tapioca, la farina di tapioca che viene dalla pianta della cassava e la cassava è ricca di amidi resistenti, gli amidi resistenti sono super salutari per il vostro microbiota, aiutano a nutrire come prebiotico tutti i probiotici nella vostra viscere che ti aiuta come secondo cervello a migliorare la risposta immunitaria e aumentare il vostro metabolismo e vi faccio vedere passo per passo questa preparazione. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Un prodotto che è più proteica, sempre gustoso perché non dimenticate mai l'importanza di avere diciamo l'appagamento psicologico, perché comunque siamo tutti quanti legati a quel dolce dopo cena, dolce dopo l'allenamento e così avendo grazie a Foodspring tante opportunità di appagare anche quella voglia di dolce ci aiuta a affrontare magari la dieta, l'alimentazione e l'allenamento con un cuore più sereno. Ok, è il cervello sicuramente più appagato, così provate Back Protein e non dimenticate che c'è sempre il sconto di 15% su foodspring.it scrivendo gilyt e così e scrivetemi sotto provate questa torta, ditemi, torta biscotto, biscotto torta, non dimenticate di scrivermi qua sotto di che cosa ne dite, della mia ricetta per questi cuor di mele, ok, questo biscotto, mezzo biscotto, mezzo torta, fatemi sapere se vi piace o no e ci vediamo alla prossima con Foodspring, un bacio dalla Jill e non dimenticate di utilizzare il mio codice sconto gilyt per avere 15% di sconto quando arrivate sul vostro carello check out, ok, perché ci sono un sacco di prodotti di Foodspring che ci permette di avere tante proteine, tante fibre e tante cose sane per il nostro corpo per aiutarci a rimanere in forma. Un bacio dalla Jill, vi aspetto alla prossima! Un bacio dalla Jill, vi aspetto alla prossima!